Abano. Sorpresi ad armeggiare con una serratura di un portoncino all'interno di un condominio di via Busonera. Due giovanissimi rumeni di 19 e 25 anni sono stati denunciati per tentato furto. I carabinieri sono stati allertati da un residente che aveva visto i due ragazzi sospetti entrare nel palazzo. Nello zaino sequestrato ai due rumeni trovate torce e cesoie.